Mentre cresce più che mai l'attesa, in vista dell'avvio ufficiale della nuova stagione invernale sulle meravigliose vette dolomitiche, continua a rimanere alta l'attenzione sulle Olimpia di 2026. Proprio su una delle questioni più delicate, ossia la collocazione della futura pista da Bob Olimpica, si è espresso in queste ore il ministro per lo sport Andrea Bodi, in visita con il governatore Luca Zai alla Fira Cavalli di Verona. Noi siamo in perfetta sintonia, quindi non è che possiamo risolverla tra di noi, perché probabilmente l'avranno già risolta. Le questioni sono tecniche, indubbiamente è un tema serio, che va affrontato seriamente, sapendo quali sono gli impegni che sono stati assunti quando si è consolidata la candidatura, stiamo cercando di capire come intanto, prima di tutto, mantenere fede agli impegni assunti e di tenerla in Italia. Cortina è ancora un tema, non ne stiamo parlando. La questione continua a rimanere in primo piano. È un tema solo tecnico, se non ci sono le condizioni non è possibile crearle artificialmente, quindi dobbiamo affidarci ai tecnici e fare in modo che vengano valutate seriamente le difficoltà rispetto alle opportunità.